Ciao a tutti, qua abbiamo il mozzo del piaggio ciao, io l'ho revisionato mettendo il paraolio davanti e dietro nuovo poi ho messo la pasta rossa da guarnizioni sotto e sopra la guarnizione perché questo qui non è mio, il ciao, quindi ho detto se capita che poi perde vado a colpo sicuro e infatti al seno l'avevo messo, ho solo bagnato la guarnizione d'olio e è andato benone, però è il mio, se capitasse che perde lo faccio ma qua non essendo il mio non potevo permettermi di non andare a colpo sicuro non ho rifatto il tutorial del lavoro fatto dentro perché gli ingranaggi sono come il si denti liquidali come il gruppo che avevo fatto del si, quindi ho detto mi sembra un doppione fare lo stesso lavoro se fossero stati denti dritti l'avrei fatto, comunque siamo avanti con i lavori del ciao ci saranno altri tutorial poi interessanti e se non avete fatto iscrivetevi al canale, ciao a tutti